Il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha inaugurato nell'ex ospedale di Carrara 14 nuovi posti letto di cure intermedie, destinati cioè a ospitare in una struttura residenziale i pazienti non tanto gravi da avere necessità di stare in ospedale, ma non ancora stabilizzati per poter rientrare a casa dopo il ricovero. A questi se ne aggiungeranno a breve altri 23. La realizzazione dei nuovi posti letto a De Torossi, che nella stessa giornata ha fatto tappa anche nell'ex ospedale di Massa e al Campo di Marte a Lucca, è stata resa possibile dallo sblocco delle assunzioni di medici e infermieri deciso con l'emergenza coronavirus. I nuovi posti nel monoblocco di Carrara si sommano ai nuovi 26 letti ricavati nell'ex ospedale di Massa e che aggiunti a quelli già esistenti portano a 60 posti letto, 26 dei quali per pazienti covid positivi e 34 per pazienti non covid.